Saranno un centinaio i relatori che prenderanno parte alle tre giornate dedicate al meeting europeo su Pirandello e all'iniziativa organizzata in occasione del 150esimo anniversario dalla nascita di Ruggero Ruggeri. Questa mattina la Rocca Malatessiana di Fano è stato dato l'avvio al convegno con il saluto delle autorità locali a cui è seguito l'intervento di artisti italiani e docenti delle università e accademie europee. È un evento che riesce a trovare il suo spazio europeo e questo è molto importante per Fano perché attraverso l'immagine, la forza di Ruggero Ruggeri e l'abbinamento fondamentale con Luigi Pirandello siamo riusciti a trovare la dimensione giusta per rappresentare l'identità di Fano attraverso un suo grande personaggio, una personalità che è appunto Ruggero Ruggeri che ha dato la forza, la creatività a Pirandello di realizzare quelli che sono i suoi massimi spettacoli teatrali sei personaggi in cerca d'autore, Enrico Quarto. Ecco, grazie a questa individuazione del ruolo di Ruggeri all'interno del teatro di Pirandello abbiamo anche proposto il premio Ruggeri che darà invece spazio ai giovani e questa è l'idea vincente perché al di là della commemorazione si dà l'opportunità ai giovani di trovare una dimensione non solo a livello nazionale ma anche soprattutto sul piano professionale perché faranno tre performance dentro la casa Ruggeri. Delle 30 domande con videoregistrazione da parte di attori under 30 provenienti da tutta Italia ne sono state selezionate 12, tra loro ci sono quattro fanesi i ragazzi nel pomeriggio hanno partecipato ad una lezione tenuta dagli stessi componenti della giuria Carlo Simoni, Arianna Ninchi e Matteo Giardini l'evento è sostenuto dal Comune, dalla Fondazione Carifano, dalla BCC Fano, dalla Fondazione Teatro della Fortuna e da Fanno Rocca Malatessiana con il sostegno di Aset. Ci siamo proprio impegnati per la cultura del nostro territorio e non solo sosteniamo il territorio economicamente ma la cultura la riteniamo molto importante dove sono soprattutto i giovani, le scuole che partecipano ad eventi come questo andiamo anche oltre, con le scuole abbiamo anche aperto un tavolo per studiare la cooperazione con i ragazzi delle scuole. Domani appuntamento alle 9 alla Pinacoteca San Domenico per un incontro aperto al pubblico dal titolo Teatro e Scuola si proseguirà alle 11 con la presentazione dei monologhi selezionati alle ore 15 invece si terrà la designazione del vincitore del premio Ruggeri farà parte della commissione giudicatrice anche il presidente Giorgio Gragnola. L'iniziativa dei 150 anni per la celebrazione del nostro celebre concittadino trovano la fondazione tra i partner di questa iniziativa perché valorizza i giovani la fondazione da sempre è attenta a promuovere iniziative che consentano ai nostri giovani di cogliere delle opportunità quindi questa mi sembra un'opportunità molto bella molto importante per i nostri giovani, per la nostra città e spero che non sia soltanto l'inizio di una serie di iniziative in questo senso.